Un periodo natalizio, quello del 2022, caratterizzato fortemente dall'influenza australiana che sta colpendo l'intero territorio nazionale. Da qui le innumerevoli corsi in farmacia alla ricerca dei farmaci anti-influenzali. Proprio quei farmaci che da qualche mese però scarseggiano tra le farmacie italiane, così come in quelle della provincia di Pesaro-Urbino. Dall'antinfiammatorio Brufen al Fluimucil, dal Clenil al Fluibron per l'Aerosol. Giusto qualche nome dei medicinali più conosciuti e utilizzati che però da qualche mese sono diventati pressoché introvabili tra le strutture del territorio. Una ventina sono le farmacie tra comunali e private sparse nella città di Pesaro e tra queste la più attrezzata è la farmacia Mari di Samuele Paolini in via Rosselli. Una situazione che si è venuta a creare da due o tre mesi a sta parte, che sembrava che era momentanea e invece questo va avanti ormai da tre, quattro, cinque mesi. Il problema è che non si sa e nessuno può programmare quando terminerà questa problematica. Noi siamo forniti e siamo in grado di garantire il servizio con la dispensazione del tipo Brufen, Nurofen e tanti altri. Nel magazzino proprio nostro interno su per la farmacia per arrivare a fine gennaio o metà febbraio per stare sicuri. La differenza è dettata dal fatto che nel tempo da quando il dottor Paolini ha preso in gestione la farmacia circa dieci anni fa è riuscito a sostenere economicamente e con sacrifici una referenza diretta con le case farmaceutiche senza connettersi con i grossisti. Questo rapporto diretto gli ha permesso poi oggi di godere di un rifornimento tempestivo abbondante dei medicinali che gran parte delle altre farmacie, non solo di Pesaro ma anche nazionali, non riescono a disporre. Sono piccoli lotti con piccoli quantitativi. Naturalmente la farmacia Mari con l'organizzazione che ha negli ordini quindi appoggiandosi ai grossisti solamente con quello che non si può proprio fare a meno garantisce un servizio diciamo non al 100% ma quasi molto vicino. Il fatto che i farmaci siano reperibili col contagocce è dovuto sia alle conseguenze scatenate dal conflitto russo-ucraino ma anche da altre problematiche delle quali i farmacisti non ne sono a conoscenza. Sembrava che ci fossero dei laboratori di materie prime in Ucraina e che davano in pratica queste mancanze proprio dovute al fatto del scoppio della guerra. Ma dopo poi sia per me, dopo non sono stato nemmeno più tante volte a chiedere più di tanto anche perché sembrava come nessuno sa di preciso. Comunque sia è una situazione che si è andata a gravare da settembre a oggi costantemente, mese per mese. La farmacia Mari è diventata l'unica sul territorio pesarese a disporre di tutti quei farmaci indispensabili per curare i sintomi influenzali. Di conseguenza i cittadini che si dirigono nelle altre farmacie vengono quotidianamente rimbalzati e invitati a dirigersi verso la struttura di Via Rosselli. Le altre farmacie vanno a vedere nel cercafarmaco se abbiamo il medicinale e il medicinale da noi è presente e quindi le altre farmacie ci mandano il paziente. Naturalmente questo comporta una spropositata richiesta di medicinali alla quale la farmacia Mari fa fronte con il buonsenso. Ci richiedono più di un pezzo, quindi la mamma che viene che gli serve il Nurofen, ad esempio, che siamo una delle poche farmacie che ha giacenza e disponibilità a tuttora, come ho detto per diverso tempo, ma bisogna che contingentiamo la dispensazione a una confezione per famiglia in modo da poter allungare il più possibile la giacenza interna.